Continua la nostra carrellata tra le squadre protagoniste al trofeo 3SOR qui sulla nave MSC. Al mio fianco le ragazze della CMNP Conegliano. Subito a sinistra Giorgia, la ragazza che ha deciso prima di tutte di partecipare a questo torneo. Giorgia, come ti è venuta questa idea? Praticamente ho trovato in un negozio sportivo il volantino dove c'era scritto il torneo e mi è venuta subito in mente di poter partecipare. Tu giochi a calcio? Sì. In quale squadra? Vittorio Veneto. Il tuo ruolo? Difensore. Vittorio Veneto fa il campionato di Serie C Veneto, giusto? Sì. Come sta andando il campionato? Bene. Io adoro quando mi fanno le disposte in monosillabe, va benissimo. Allora invece continuo stando alla mia sinistra, il tuo nome? Silvia. Silvia, tu sei l'unica del gruppo che non gioca a calcio, giusto? Quindi questa per te è la prima esperienza? No, ho fatto altri tornei con la scuola che organizza la scuola. Come mai non decidi di entrare nel mondo del calcio? Perché i miei non mi lasciano. Ahia, questo è uno dei tanti problemi che ha questo mondo. Cosa dicono i tuoi? Eh, che a mio papà non piace il calcio quindi preferisce farmi fare un altro sport. Ah, quindi è una cosa contro il calcio, non per il fatto che tu sei donna e non dovresti giocare a calcio? Anche per quello. E tu cosa rispondi loro? Eh, è la mia passione, ci gioco lo stesso però tra di noi. Dai, alla fine ti auguro di riuscire a convincere i tuoi genitori come è successo a tante ragazze. Ha nominato la scuola e a proposito di scuola al mio fianco c'è la responsabile del gruppo che è una professoressa, giusto? La signora? Rosalene Lucille. Lei è il capogruppo di questa squadra, il torneo è già iniziato, oggi siamo alla terza giornata, come si stanno comportando? In campo molto bene, tranne vabbè ieri non hanno fatto una grande partita, però ieri ce l'hanno fatto ieri e oggi secondo me ci hanno messo veramente il massimo, hanno fatto una buona difesa, un attacco un secondo tempo un po' debole però bene insomma. Forionda lei mi diceva che il suo sport è il basket. Il calcio a 5 e il basket soprattutto ad alti livelli hanno delle similitudini, ma non solo nelle dimensioni di lotte nel campo. Ci vuole parlare di quali possono essere le similitudini tra questi due sport? Sono comunque due sport di squadra? Sono comunque due sport in cui c'è coesione e forza di gruppo alla base di tutto? Sì, beh, sono due sport in cui si trovano a giocare 5 contro 5 in un campo piccolo e quindi diciamo che il gioco è abbastanza simile. Infatti loro per esempio che giocano a calcio a 11 vedo che hanno difficoltà a stare tipo larghe, a fare il dai e vai, che per esempio è presente nel basket. Quindi mi dite anche abbastanza facile seguirle proprio perché il campo è piccolo e si gioca 5 contro 5. Perché nelle scuole i maschi giocano tutti a calcio e alle ragazze fanno fare altri sport? Ma questo dipende un po' sia dagli insegnanti ma un po' anche dalle ragazze perché alle superiori non è facile coinvolgere le ragazze nello sport. Non è facile coinvolgere lo sport alle superiori, però alle scuole medie li si impone, almeno io parlo della mia generazione, sono ormai un po' di anni che non vado più a scuola, però li si impone ma le ragazze la polla a volo. Forse diventa anche più semplice gestire, anche perché la maggior parte delle ragazze comunque magari fanno lo sport, cioè pallavolo nelle società sportive, quindi diventa anche più semplice poi gestire l'ora. Da amante di questo sport a una professoressa, come possiamo fare per portare il calcio femminile nelle scuole come avviene negli Stati Uniti, dove le ragazze anche all'università giocano a calcio, dove il calcio tra le donne è lo sport numero uno negli Stati Uniti? Ma forse coinvolgere di più gli insegnanti di educazione fisica con dei corsi di aggiornamento, perché probabilmente anche l'insegnante stessa non è preparata per affrontare un tipo di sport, anche il basket per esempio viene insegnato poco, perché comunque sono sport un po' particolari, quindi se l'insegnante non è preparato non fa lo sport. Perfetto, quindi prima di tutto ci vuole un corso per gli insegnanti. Continua alla mia destra, il tuo nome e il tuo ruolo? Eleonora Salamone e sono terzino. Dove giochi? A Vittorio Veneto. Come mai ti è venuta la passione del calcio? Diciamo che ho preso un po' da mio papà, che lui gioca da calcio quando ha dieci anni, quindi mi sono appassionata a questo, sebbene prima facevo danza, voglio dire, mi sono appassionata al calcio. Sono tante, sembrerà strano perché non c'è similità, però sono tante le ragazze che passano dalla danza al calcio, cioè due sport completamente diversi, è l'incubo delle mamme. E i tuoi come l'hanno presa? Inizialmente erano contrari, però poi diciamo che ci sono fatti una ragione. Giustissimo, perfetto. Chi la dura la vince, io vado dietro, nome e presentati al pubblico, anche ruolo e tutto il resto. Sofia Marchesine, sono il portiere e ho iniziato a giocare a calcetto, non a calcio come loro, da poco perché ho sempre fatto altri sport. Segui il calcio? Una domanda che faccio spesso e purtroppo la risposta non è mai molto bella. Segui il calcio femminile? Beh, sì, quando lo trasmettono in tv e riesco a trovarlo, sì, se no è un pochino più difficile, magari lo seguo attraverso loro, nel loro campionato, perché essendo amiche magari qualche partita riesco ad andarla a vedere o così. Tu dove giochi? Io non faccio campionato perché faccio altri sport anche, gioco con una squadra e facciamo torna in giro. Perfetto, presentati al pubblico. Sono Cristina Anaclerio e gioco come centristà esterno. Anaclerio è un nome che almeno dalle mie parti, Bari, vuol dire calcio. Ci sono diversi Anaclerio che giocatori professionisti. Come mai hai anche tu questa passione? Dio, perché vedendo le mie compagne giocare gioco da poco tempo, appena iniziato. E giocando con loro mi è piaciuto e adesso gioco anch'io. Perfetto, io continuo come ho detto all'inizio, una squadra giovanissima, infatti la più grande del gruppo ha solo? Quanti anni hai? 19. Ecco, perfetto, una squadra che ha 19 anni si costretta a essere la più vecchietta. Fai da balia le tue compagne? Mi tocca, sì. Devo controllarle perché sono un po'... sono ancora piccole. Comunque, prima di tutto presentati, è stato un errore mio se non te l'ho fatto fare. Io sono Silvia Zaninotto e gioco anch'io nel calcio Vittorio Veneto, sono un difensore, centrocampista all'occorrenza. Prima la professoressa diceva che in campo sono brava e fuori un po' meno. Cosa ha combinato? Tu che sei la più vecchia e qui neanche la capobanda. No, non sono la capobanda, primo. E secondo sì, gli orari, siamo un po' ritardatarie. Diciamo che le ragazze che dormono nella stanza della prof sono quelle più puntuali. Quindi sono state le più sfortunate a finire là. Finisco il tour con... Maddalena Cettolin, sono un difensore centrale. Ho iniziato a giocare due anni fa perché ho conosciuto Leonora, quella di prima, che mi ha fatto venire la voglia di richiedere ai miei se potevo giocare a calcio. I tuoi hanno fatto problemi o hanno... Mia mamma soprattutto, però insomma... Queste mamme... Ma quando sarete voi mamme, se vostra figlia vi chiederà di giocare a calcio? Subito, subito sì. Anzi, sarete voi che magari mettete il pallone tra i piedi, appena avrà un anno e qualche mese. Esatto. Un'ultima domanda, come ti stai trovando? È la tua prima crociera? Sì. Come sta andando? Benissimo, mi sto divertendo tantissimo. È un bel posto e basta.